Il nostro focus del giorno, il nostro advisory update del giovedì mattina è dedicato al mondo della ristorazione che come sapete ha dovuto nuovamente chiudere i battenti dopo un po' di respiro che ha avuto modo di compiere e di sfruttare nel periodo estivo sostanzialmente nuova chiusura per un lockdown per quanto mirato che sostanzialmente non si sa ancora quanto durerà il governo e al lavoro ovviamente ma al momento conta quello che vedete anche quello che la regia sta inquadrando e cioè la notizia è questa sostanzialmente un allarme da parte della Fipe Conf Commercio fatturato giù del 35% a rischio 60.000 imprese e 300.000 posti di lavoro perdite stimate che nel titolo non c'è c'è nel testo stimate per 33 miliardi di euro ecco perché si parla di un settore della ristorazione devastato noi ne parliamo con chi di ristorazione se ne intende e do la parola ed è un piacere ritrovare qui sulle fonti tv a Valerio Massimo Visentin critico del Corriere della Sera nella sua tenuta oramai che lo ha reso ancora più celebre di quanto lo fosse prima Valerio buongiorno e grazie per la disponibilità buongiorno grazie a voi io immagino tu abbia comunque poi dei delle stoffe dei materiali più leggeri quando si va quando fa quando fa caldo se no se no impazzisci no dire la verità sono sempre vestito uguale ma per fortuna non soffro il caldo quindi ok quindi insomma sei un po come i supereroi no Dylan Dog che ha sempre la stessa giacca nera camicia rossa paperino eccetera eccetera va bene va bene scherzi a parte e battute a parte chiedo ti chiedo a te come insomma profondo conoscitore del settore quanto effettivamente o meglio che cosa veramente sta succedendo al settore che come detto questa è un'agenzia siamo su agi.it che è un'agenzia di stampa italiana si parla di un settore devastato di stime di 33 miliardi di euro non sappiamo fin quando durerà questo lockdown e fin quando i ristoranti quantomeno nelle zone più a rischio rimarranno rimarranno chiusi e io mi domando insomma quando si tratterà di riaprire di nuovo ci saranno ulteriori perché poi non dimentichiamoci che quando è stato dato il via libera da parte del governo molti ristoratori hanno detto noi a queste condizioni non riapriamo perché se dobbiamo fare il distanziamento se dobbiamo investire nella sanificazione degli ambienti e poi magari non viene nessuno perché c'è ancora paura e noi abbiamo speso per poi magari ritrovarci di nuovo con una terza ondata tanto vale che non riapriamo neanche insomma è una situazione delicata complicata Valerio sì il problema di questa situazione è l'incertezza del futuro quindi non è possibile prendere contromisure per gli esercenti che in questi giorni stanno perdendo incassi non è facile anzi è impossibile progettare il futuro perché non si sa quando il futuro ci consentirà di tornare a una vita vicina a quella normale peraltro dopo il precedente lockdown c'è stata una stagione abbastanza positiva per la ristorazione abbiamo anche avuto la fortuna di avere un'estate lunghissima che si è protratta anche oltre settembre fino a poche settimane fa e quindi i ristoratori hanno potuto sfruttare i Deor che in tutte le città sono stati prestati a questi esercizi quindi insomma hanno tenuto botta abbastanza dignitosamente e certo questa seconda chiusura è stata una nuova mazzata nuova mazzata io mi rendo conto che ovviamente nel tuo lavoro sei anche così bardato proprio per evitare di essere riconosciuto dagli a dai dai gestori dei locali e per poter avere una visione più neutrale possibile però io immagino che insomma qualche qualche con insomma con qualcuno hai avuto modo di parlare magari con qualche titolare di qualche ristorante con un qualche gestore insomma mi interessava capire proprio nel concreto magari quelle due o tre persone proprio del settore con cui ti è magari capitato di interagire che cos'è insomma sensazioni ti hanno ti hanno comunicato insomma al di là del ovviamente della qualità della della cena del pranzo che si va che si va a consumare beh sì perché io non ho rapporti amicali con nessun ristoratore però professionali sì quindi perfetto telefono ai ristoratori di tutti i giorni perché delle come va per sentire il polso della situazione in questo momento c'è sconcerto estordimento diciamo non sanno cosa fare alcuni si sono apprezzati col delivery anzi molti soprattutto nelle grandi città perché il delivery è uno strumento che funziona in centri abitati in una certa consistenza un piccolo paese per esempio non ha senso e però c'è l'incertezza di cui parlavo prima che gli impedisce di valutare quali risoluzioni adottare per i prossimi mesi perché adesso c'è un secondo la seconda ondata ma non possiamo escludere che ce ne sia una terza che questo questa serie di apertura e chiusure continui per molti mesi e questa la chiave della crisi anche non solo economica ma anche diciamo esistenziale che poi coinvolge tutti anche tutti gli altri settori del commercio e del lavoro perché i ristoratori sono quelli più in vista e sono anche più lamentosi a dire la verità ma qui stanno male tutti almeno un 70 per cento della popolazione ha perso incassi vitali incassi vitali che solo in parte potranno essere in qualche modo compensati dal bonus ristorazione non so se insomma hai seguito il questa questa decisione insomma questo diciamo questo strumento questo provvedimento a favore dei ristoratori da parte del governo e non so che tutti sia fatto se insomma è uno è un aiuto è un aiuto importante se invece magari c'è molta diffidenza e come dire qualcosa che si esaurisce in poco tempo e poi dopo di che siamo appunto da capo ma intanto sicuramente c'è diffidenza nei confronti del governo che al di là delle cose fatte ha sbagliato la comunicazione ha confuso le acque ha fatto dichiarazioni poco leggibili a volte piene di entusiasmo ma senza poi immediate risposte molte cose non sono state spiegate andavano subito raccontate per filo e per segno anche negli aspetti più delicati invece molto spesso le comunicazioni che abbiamo ascoltato erano riassuntive un po superficiali questo ha generato confusione in tutta la popolazione italiana e figuriamoci se non la generata nel mondo della ristorazione che tra i più colpiti questi ristori sono in arrivo certo anche lì c'è un equivoco non non si può credere che il governo possa sostenere tutte le imprese commerciali italiane con soldi che non possiede quindi è ovvio che la crisi colpirà duramente e non sarà il governo in grado di sostenere tutti bisogna tenere conto che siamo di fronte a un evento epocale di dimensioni drammatiche altamente drammatiche mai viste così e non non potrà il governo sostenere tutti non potrà essere portatore d'acqua per tutti gli esercizi commerciali ma neanche altri comparti altri settori della vita italiana abbiamo visto anche il mondo la cultura è colpito i musei sono chiusi i teatri sono chiusi cinema sono chiusi l'editoria sta affondando insomma non può correre in soccorso a tutti il quadro il quadro che c'è insomma che c'è raccontando abbastanza chiaro ricordo a proposito del bonus ristorazione che insomma il contributo si può chiedere entro il 28 di novembre contributo fondo ristorazione su trend online peraltro trovate anche tutte le informazioni che vi servono insomma e si parla di una ristorazione appunto in ginocchio tra divieti di apertura e aperture parziali come spiegava il nostro ospite valero massimo visentin con asporto o delivery peraltro insomma milano per citare una grande città dato che si applicano soprattutto queste realtà è pieno insomma di ciclisti del delivery anzi si vedono a volte non dico che inquietante ma è significativo come vedere a volte alcune strade di milano dove ci siano solamente appunto questi ragazzi che pedalano con loro zaino azzurro giallo insomma in base alla alla società che che rappresentano e che trasportano alimenti pasti a ogni momento del giorno vedi tele lavoro vedi smart working e vedi insomma occasione per i ristoranti di poter lavorare non so come chiedo anche faccio anche una domanda un po più personale valerio cioè un critico gastronomico come diciamo prosegue la propria la propria attività a quando si trova davanti a un lockdown come questo cioè in cui la ristorazione deve deve fermarsi per forza di cose tu dicevi che sono molto lamentosi tutto sommato si può anche si può anche capirle insomma dato che appunto con l'ultimo lockdown molte attività sono rimaste aperte e tra quelle rimaste chiuse sono rimaste appunto soprattutto loro ma tornando a noi come come si muove appunto un critico gastronomico quando c'è un lockdown che di fatto ferma la ristorazione ma intanto faccio un passino indietro se permetti cioè il è fuori di dubbio che il ristorante sia il luogo più pericoloso dal punto di vista del contagio perché si sta seduti per molte ore senza la maschera protettiva e accanto a gente che non indossa questa maschera quindi al di là poi di altre contingenze che si verificano se si esce a cena cioè la possibilità di assembramenti e anche di un ritorno a una vita un po più spensierata e meno quindi accorta alle esigenze dell'emergenza sanitaria è un dato di fatto che il ristorante sia un luogo potenzialmente pericoloso poi tra le rimostranze dei ristoratori che si sentono un po sotto il gioco di un complotto ma non è così c'è anche il fatto che dichiarano di aver speso tantissimo per la per adattare il ristorante a a queste norme ma invece in moltissimi casi non è andata così io anzi ho notato un progressivo lassismo rispetto alle regole nei mesi prima del del blocco i tavoli sono tornati ad essere molti di più le distanze di sicurezza non esistono spesso non ti misurano la febbre l'ingresso l'igienizzante va chiesto in molti locali non sto parlando di tutti e sto parlando però di una bella fetta che non rappresenta forse la metà ma quasi in molti locali non viene l'igienizzante non è a portata di mano per il cliente le mascherine gli stessi camerieri le tengono spesso sotto il naso io capisco la fatica di fare un mestiere in cui si corre avanti e indietro con una maschera sulla faccia però le regole sono regole quindi diciamo che non tutti i commercianti della ristorazione si sono comportati come avrebbero dovuto ok giusta giusta precisazione abbiamo prima che dato fatto critiche importanti su come è stato gestita insomma la comunicazione in particolare da parte del governo è vero che è una situazione complicata ma c'è stato anche dell'assismo insomma da parte di alcuni non tutti ovviamente operatori tornando a noi valerio no tu mi avevi fatto una domanda che adesso non ricordo più ci mancherebbe ti chiedevo come un critico gastronomico diciamo galleggia sopravvive e cerca di mantenersi ancora attivo a fronte di una situazione in cui sulla carta non potrebbe non può lavorare perché insomma i ristoranti sono chiusi beh però c'è il delivery e c'è l'asporto e quindi io mi attengo a queste due modalità con ordinazioni oppure andando a prendere il cibo in loco e devo dire che comunque come servizio mi sembra utile perché il lettore deve comunque essere informato e continuo a fare il mio mestiere sia pure in modalità un po' ridotta esattamente come accade per i ristoranti. Ok quindi il critico gastronomico ordina si fa arrivare diciamo la cena il pranzo a casa e sulla base delle ovviamente il servizio a questo punto immagino sia la velocità con cui riesci a ottenere i piatti e anche alla facilità perché poi magari si ordina tutto online e quindi questo può essere un servizio 2.0 questo è anche un aspetto interessante e io immagino che insomma un altro modo per mantenere mantenersi attivi e in questo caso posso dirlo con cognizione di causa perché qui come ho anche il nuovo libro di Valerio Massimo Visintin e cioè scrivere di gusto ultima ultima pubblicazione editrice bibliografica ce l'abbiamo anche possiamo anche vedere la copertina eccola qua la regia la inquadra bello anche il doppio senso scrivere di gusto nel senso di ristorazione e anche scrivere prendendoci gusto mi permetto di fare questa libera interpretazione in qualche modo è un libro mi sembra un po diverso rispetto magari a una normale guida per ristoranti questa volta ci racconti la vita del critico in generale correggimi se sbaglio e a te la parola sì dovrebbe essere almeno nella nostra intenzione un manuale di avviamento a questa professione l'ho scritto insieme agli allievi della scuola che ho fondato assieme ad Aldo Palauro e Jacopo Viganò e quindi i testi sono scritti da me e anche da 16 allievi della scuola e cerchiamo di dare delle indicazioni per chi vuole fare il critico gastronomico e naturalmente è una lettura che può bene anche per chi fa svolgere le sue critiche e le posta soltanto su TripAdvisor per dire che comunque il metodo e anche diciamo il profilo etico dovrebbero essere gli stessi ci sono anche delle interviste peraltro all'interno del del libro a uno fra uno uno su tutti per quanto riguarda la ristorazione Edoardo Rasbelli che è un nome importante insomma ma non soltanto mi pare di capire che hai spaziato anche oltre la ristorazione Rasbelli sì lo abbiamo intervistato perché è stato il primo critico gastronomico italiano negli anni 70 grazie a un'intuizione avuta in tandem con Cesare Lanza direttore del Corriere di Informazione dei tempi e perché rimane l'unico critico gastronomico italiano a mio avviso poi però abbiamo voluto chiedere a critici importanti di altri settori come vedono questo compito perché in fondo tutti i critici dovrebbero avere dei criteri affini quindi abbiamo intervistato Valerio Caprara che è un grande critico cinematografico Ida Bozzi che è una critica letteraria del Corriere della Sera Antonello Maietta che è il presidente dell'AIS cioè dell'associazione italiana sommelier e che quindi valuta vini quotidianamente e abbiamo anche chiesto Francesco Bonami che è critico d'arte argutissimo e che ha contribuito a delineare una figura professionale che come dicevo prima dovrebbe avere dei criteri una strada segnata che valga per tutti mentre l'unico settore in cui si va un po' ognuno per conto proprio è quello della critica gastronomica dove le regole vengono cucite secondo il proprio comodo e le proprie... Proprio gusto? No no proprio le proprie esigenze anche economiche per una serie di ragioni che raccontiamo nel libro Ok ok qual è il settore dove ti è sembrato di percepire appunto parlando con questi con questi tuoi colleghi dove ci sono magari più analogie tra la ristorazione e non so l'arte o piuttosto insomma c'è un settore dove l'attività di critico è abbastanza vicino a quello gastronomico? O meno lontano se no se vogliamo? Ma sono tutte molto affini in linea teorica, in linea ideale purtroppo c'è la tendenza da parte di una porzione della critica gastronomica che è identificare i piatti degli chef con le opere degli artisti e questo è un errore perché alla fine si dimentica che se è arte quella degli chef è un'arte che ha una funzione, un'arte funzionale non solo concettuale mentre dall'altra parte l'arte moderna, la pre-contemporanea ha la sua forza quasi sempre nella potenza del messaggio che esprime i piatti vanno mangiati e per fortuna ancora le opere d'arte non le mangiamo verrà il giorno in cui ci porteranno la merda d'autore di Manzoni in tavola però e dovremo mangiarla perché è di cracco Ok, sappiamo che insomma Valerio Visentini è sempre molto pungente nel settore diciamo della ristorazione considerata gourmet ti chiedo, faccio anche quest'altra domanda è un libro che hai scritto e detto con i tuoi studenti ma perché quindi, correggimi se sbaglio c'è voglia insomma di avviare e di fare il mestiere che fai tu cioè il critico gastronomico e tu consigli di fare questo mestiere a chi magari appunto è nel momento in cui deve decidere che cosa fare da grande e magari pensa perché no insomma mi piace mangiare so scrivere, mi sembra possa essere la mia strada per cui è una domanda divisa in due c'è molta richiesta e consigli questo mestiere? c'è richiesta perché tutti mangiamo e quindi tutti ci sentiamo deputati ad esprimere un giudizio pubblico il che va anche bene perché è una forma di democratizzazione del giudizio gastronomico poi i social hanno il loro peso da questo punto di vista immagino sì, certo, i social, i blog che adesso vanno un po' meno ma per esempio i social come Instagram sono pieni di recensioni perché poi alla fine che cos'è una recensione? è un racconto che contiene un giudizio quindi questo capita continuamente anche se molti sono prezzolati perché purtroppo i social stanno prendendo questa piega qua però invece questo esercizio di critica andrebbe fatto secondo delle regole regole anche etiche bisognerebbe avere rispetto nei confronti di chi si critica rispetto nei confronti dell'esercizio della critica stesso e soprattutto rispetto nei confronti di chi legge quello che noi scriviamo e queste tre cose spesso mancano tutte e tre consigliare di fare questo lavoro sì, senz'altro perché è un lavoro bellissimo però bisogna stare attenti perché è un settore che non è mai stato preso sul serio dall'editoria l'ha sempre tenuto in serie B e quindi è nato con alcune malformazioni e bisognerebbe quindi impegnarsi a modificare l'andazza attuale che non è certo lodevole e commendevole bisogna mettersi di impegno per svolgere questa professione con serietà magari senza prendersi troppo sul serio ma farla con serietà prima hai citato Instagram sono curioso di sapere se tu dopo aver magari quando ti portano un piatto che sia al ristorante o magari che tu sia da amici o anche semplicemente a casa se tu prima di mangiarlo lo fotografi oppure no dato che adesso se non fotografi il tuo piatto non sei nessuno sostanzialmente no io non lo fotografo perché potrebbe essere un indizio che può aiutare il cameriere o il ristoratore a scoprirmi però non lo faccio anche per una forma di educazione perché non trovo che sia ben educato fotografare i piatti quando si va fuori a cena d'altra parte vedo che adesso addirittura gli chef a una certa ora fanno una passerella in sala alcuni, ma molti a farsi fare i selfie con i clienti trovo questa cosa assai poco adatta alla raffinatezza che i grandi chef credono di mettere in scena questa è una roba da sagra di paese che eviterei quindi si fotografo tutto perché bisogna testimoniare la propria esistenza sarebbe bello se fossimo più consapevoli di esistere senza bisogno di una testimonianza fotografica su un social torniamo al vecchio discorso affrontato qualche tempo fa sempre assieme a Valerio Visentin siamo sempre più vicini diciamo c'è un ramo della ristorazione che è sempre più verso il tutti sanno chi è lo chef e sempre meno quella direzione che aveva magari la vecchia osteria in cui in realtà era lo chef che conosceva i propri clienti e che in qualche modo sapeva come soddisfarli insomma adesso lo chef, i suoi clienti non sa né il nome ne sa neanche magari che aspetto hanno prima di salutarti Valerio non so se vuoi aggiungere qualcosa su questa piccola riflessione che ho fatto se no ti faccio la domanda finale domanda finale ok no è una domanda che ti faccio sempre in realtà ogni volta che ho il piacere di averti come ospite e cioè se recentemente hai avuto hai mangiato un piatto particolarmente buono e invece per par condicio anche un piatto particolarmente disgustoso ovviamente senza fare i nomi ma il tipo di piatto in cui ti sei imbattuto ma disgustoso no perché per fortuna la ristorazione rispetto a qualche lustro fa si è assestata su una media magari mediocre però insomma non scende mai sotto un certo livello una volta capitava di mangiare delle cose ignobili adesso meno però anche cose straordinarie non me ne vengono in mente quindi non saprei cosa dire molto meno la verità è che si trovano in giro più o meno sempre gli stessi piatti questo è un altro problema della ristorazione in particolare quella milanese che replica 5 o 6 cliché all'infinito e se vorrà riprendersi quando potremo ragionevolmente riaccendere il motore della normalità la ristorazione milanese dovrà imparare a essere un po' più se stessa e un po' meno vittima delle mode chiaro, 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 assolutamente e allora scrivere di gusto è l'ultimo libro di Valerio Visintin eccolo qui editrice bibliografica chiedo scusa Valerio grazie per il tuo intervento critico gastronomico del Corriere della Sera c'è chi scrive sorridendo dicendo beh insomma c'è chi con le mascherine c'è chi non le mette c'è chi invece esagera probabilmente te l'hanno già fatta questa battuta eh beh sì dal resto io quando esco adesso siamo in zona rossa non si può neanche uscire ma di solito io metto la mascherina sotto e poi sopra in passamontagna quindi ho due maschere perfetto, perfetto, chiaro grazie ancora Valerio Visintin buon lavoro, alla prossima grazie grazie mille ci fermiamo per un piccolo bel pubblicitario al rientro come promesso con Eugenio Sartorelli rispondiamo alle domande che ci siamo lasciate indietro e poi come facciamo sempre analisi intermarket grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille